Ciao amici, oggi impariamo un modo facile e facile per contare fino a mille. Lo facciamo utilizzando i BAM, che sono i blocchi aritmetici multibase. Vedete questo cubetto? Questo rappresenta una unità. Adesso prendiamo questi cubetti e li mettiamo uno in filo all'altro. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Sì, abbiamo formato una decina, cioè dieci unità. Adesso contiamo di dieci in dieci. Dieci, venti, trenta, quaranta, cinquanta, sessanta, settanta, ottanta, novanta, cento. Abbiamo così formato un centinaglio. Adesso contiamo di cento in cento per arrivare fino a mille. Un cento, duecento, trecento, quattrocento, cinquecento, seicento, settecento, ottocento, novecento, mille. Abbiamo formato il cubetto di mille unità. Avete visto come è stato facile contare fino a mille? Ciao a tutti amici! Questi sono i blocchi aritmetici. Non ci sono... I blocchi aritmetici non ci sono... I blocchi aritmetici non ci sono... I blocchi aritmetici non ci sono...